Verso i congressi che PDL si presenta? Un PDL che adesso vuole introdurre la democrazia all'interno della vita del partito, consentirà a tutti gli iscritti di poter eleggere loro direttamente gli assetti del governo del partito e questo farà del più grande partito campano e ancora oggi italiano anche un luogo aperto di confronto e discussione ma soprattutto di informazione rispetto ai cittadini che oggi sono un po' distanti dalla politica. A chi chiede una nuova stagione? Le stagioni vanno e vengono, noi siamo stati i protagonisti della stagione delle vittorie, adesso spetta anche però concretizzare le vittorie in risultati amministrativi. Quindi siamo impegnati a fare in modo che il governo della cosa pubblica, in particolare quello a trazione PDL, possa dare le soddisfazioni che i cittadini che ci hanno votato hanno pensato di darci.